ragazzi buonasera stasera grande pescata in compagnia di Vigo e il nostro amico Sbafo ragazzi direzione Ponte Cagnano stasera incontreremo anche il nostro amico Fabrizio di Fishing Mediterraneo un saluto a tutti noi che ci seguite stiamo crescendo siamo sempre di più dai ragazzi adesso arriviamo sulla spiaggia sempre la stessa spiaggia voglio ci rinforzare la di solo l'ambul non sape niente tentando di prendere qualche rata qualche serra vediamo un pochino cosa succede e siamo carichi ragazzi come siete carichi carichi in culo alla balena e ci vediamo tra poco ragazzi eccoci appena arrivati sulla spiaggia ci sono cento persone a pescare e stasera c'è anche il nostro amico Fabrizio ha scappottato subito quando è lecce stella grande due fabbri una sopra e una sotto raga dai calasole bellissimo andiamo a vedere cosa succede si provi cambiando siamo pronti la lingua fuori ragazzi sappiamo guardate qua come sto attrezzatura per tutto parte dai a tra poco allora ragazzi questa azione presa al mio posto innesco della fasolara viva fresca ragazzi amo 0 1 e terminale 0 28 l'elastico facciamo due tre giri per fermarla sacchiamo trucchetto ago facciamo passare dentro vedete e incominciamo a fare le spiglie dai ragazzi se passa all'orata è andata ragazzi guardate che il misco stupendo dai lanciamo ragazzi guardate e incominciamo a fare le spiglie Grazie a tutti. 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 Aspetta, che cos'è? Mormore? Mormore sarà, ragazzi. Ok. Bravo, Fabrizio. Vabbè, sarà che no, la mormora la potete fare delle ferie, se la mantieni viva. Va bene. Bravo, Fabrizio. All right. All right. Ah, tra poco, raga. Ragazzi, sulla Tena ho preso un granchietto e l'ho innescato. Vediamo cosa succede. Grazie a tutti. 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 Ragazzi, è rimasto intero, però poi cambio e metto le scarici. Grazie a tutti. Ragazzi, c'è qualcosa. 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 con una bella mormora in diretta. Guardate quanto è bella. Eccola qua. Vai, vai. Il spesso è più grande della serata. Eccolo. Steph Casting nel Golfo. A tra poco. Allora, ragazzi, basta, va bene così, stiamo smontando. La pescatina è uscita. Fabrizio ha preso un bel po' di roba. Io ho preso questa bella mormora. Bella. Anche questo sarà un po'. Dai, è uscita un po' di roba. Ci siamo divertiti. Nico di là pure ha perso un bel pesce. Ragazzi, basta. La stanchezza è tanta e si fa sentire. Poi con l'occasione per salutare un bel po' di miei amici, tra cui Mike Fishing Adventures, Axel di Pesca in Spagna, Navajo Angler, Giuseppe Pesca Bolognese Sicilia, Orata Fra, Simone Villari, Fabrizio che sta di là, Bafo, Nico, tutti i ragazzi del gruppo Pescatore per Passione, Cooper, mi dimenticavo Cooper. Ragazzi, va bene così, allora noi ce ne andiamo. Non rimane che dire, se vi è piaciuto il video, lasciate like, iscrivetevi al canale Surfcasting nel Golfo Ponte Cagnano. Al prossimo video, ciao ragazzi!